Oggi è arrivato il momento di dare una mano a chi ancora ci crede e ha voglia di fare. Un rilancio economico del territorio che si concretizza con il bando reshoring finalizzato alla riqualificazione di capannoni dismessi o all'ampliamento di fabbricati di unità produttive già esistenti. È l'obiettivo della Regione Marche che ha stanziato 2 milioni di euro, oltre a 4 milioni e mezzo già in previsione per ulteriori interventi. Passiamo dalle parole ai fatti, ha detto il vicepresidente Mirko Carloni che insieme al dirigente del servizio attività produttive Silvano Bertini e al funzionario Marco Moscatelli ha illustrato il progetto nella sede della Baioni S.p.A. di Monteporzio, azienda leader nella produzione di macchinari e impianti destinati all'industria estrattiva e per la cava, riciclaggio e trattamento di acque, fanghi e terreni inquinati. In modo particolare pensavamo ai centri artigianali abbandonati nell'area interna e tante zone industriali che avrebbero bisogno di rivitalizzazione e con questo bando la piccola e media impresa ha uno stimolo in più per riqualificare opifici, per riaprire e per assumere nuove persone. Contiamo di poter fare subito l'intervento su 50 imprese, quindi diciamo 50 nuovi capannoni aperti e successivamente rifinanziarlo se ci fosse l'esigenza. Servono stimoli alla ripartenza, ha proseguito poi Carloni, che ha sottolineato anche la ricaduta positiva sull'occupazione. Si possono fare recupero appunto di fabbricati dismessi almeno dal primo di gennaio del 2021 oppure ampliamenti delle unità produttive esistenti. Diciamo che il contributo è 50 mila euro per il 50% delle spese effettuate e il limite di spesa minimo per accedere al bando è di 80 mila euro. Devono insediarsi una nuova unità produttiva dell'impresa con almeno una o due assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese artigianali, industriali e operanti nei servizi alle imprese. Le domande dovranno essere inviate entro il 24 novembre. Ripeto, è un primo bando in un anno di transizione in attesa dei fondi europei che saranno ben più consistenti e che ci consentiranno di fare interventi molto più rilevanti. È stato un periodo difficile, le marche venivano già ad una fase non particolarmente felice e quindi dobbiamo stimolare le nostre imprese a crescere.